Spa-Francorchamp, curvoni velocissime e variazioni altimetriche ne fanno una delle piste più tecniche del campionato. Oruge e Radion, sinistra, destra, sinistra, con forte compressione. Blanchimont, curva cieca in salita che si affronta a più di 300 km orari. Ultima variante, seconda marcia a 85 km orari. Oruge Radion, 2,1 G è l'accelerazione verticale causata dalla compressione e più di 3 G quella laterale in uscita. Tale combinazione produce 1000 kg di carico su ogni pneumatico anteriore, valore in assoluto più elevato di tutto il mondiale. Blanchimont, la cracassa del pneumatico anteriore destro è sollecitata in appoggio per un periodo prolungato. L'angolo di deriva raggiunge i 3 gradi e la gomma deve assicurare massima precisione di guida. Ultima variante, la mancanza di carico aerodinamico delega alle sole coperture l'aderenza della monoposto. La violenta accelerazione in uscita sottopone i pneumatici posteriori a pattinamento, generando elevate temperature superficiali. Asfalto stradale caratterizzato da variazioni di temperatura nelle parti in ombra. Arde e media sono le mescole portate da Pirelli per garantire prestazioni, grip e sicurezza. Grazie a tutti.